La Lega mette in campo altri nomi di peso per la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Pierluigi Biondi. Stamane in città è arrivato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che prima di un punto stampa nella sede del Carroccio, accompagnato dal deputato Luigi Deramo, coordinatore regionale del partito, ha avuto un incontro istituzionale con il presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari, gli assessori del Carroccio, il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Si è parlato in particolare di sicurezza sul territorio, tema centrale nella proposta politica della Lega. Ho avuto modo di interlocuire con l'amministrazione locale, soprattutto su un tema che è il tema a me particolarmente caro, che è il tema della sicurezza, il tema del controllo del territorio, sulla necessità di tenere un livello di attenzione al tema della sicurezza altissima. Abbiamo discusso del patto per la sicurezza che è stato siglato il mese scorso con la Prefettura, che prevede sinergie e collaborazione proprio per contrastare il degrado, per contrastare quelle forme di microcriminalità, per investire sulla sicurezza urbana, sulla sicurezza integrata, per mettere a sistema le energie positive della città sul tema della sicurezza. Abbiamo parlato di videosorveglianza, ho ricordato che il Ministero dell'Interno metterà a disposizione quest'anno 36 milioni di euro per implementare la videosorveglianza, che vuol dire controllo del territorio. Ho voluto ricordare come il 16 maggio è partito il taser per le polizie di Stato per quanto riguarda l'Aquila, il 30 maggio è partito il taser per quanto riguarda la polizia di Stato del commissariato di Sulmona e poi ho voluto ricordare che anche le amministrazioni locali, anche l'amministrazione locale, qualora lo volesse, c'è la possibilità di poter utilizzare il taser anche per le polizie locali. L'11 di maggio è stato approvato in conferenza unificata alle linee guida. Quindi il tema della sicurezza è la precondizione per lo sviluppo sostenibile di una grande città come l'Aquila. Il turismo, il rilancio economico, l'attrattività di capitali, di investimenti e di turismo e di turisti passa da una condizione di vivibilità ottimale. Ci sono livelli ottimi qui da questo punto di vista, bisogna tenere il livello della sicurezza altissimo.